Un saluto, sono Vittorio Lingiardi, sono psichiatra, psicoanalista e professore alla Sapienza, Facoltà di Medicina e Psicologia. Il mio dipartimento è chiuso, il mio lavoro in questo momento lo sto svolgendo online. Chi non è impegnato nel corpo a corpo sanitario con il coronavirus, i medici, il personale paramedico, il personale sanitario, i pazienti e a loro va il mio pensiero e la mia vicinanza. Chi non è impegnato su quel fronte è a casa. E siamo spaesati, letteralmente. Siamo lontani dalle nostre consuetudini per dislocazione fisica, per i cambiamenti nelle usanze della vita, per il cambiamento nei rapporti familiari e per le preoccupazioni che riguardano il lavoro e riguardano la salute. Dobbiamo imparare in questo momento, unico nella storia del nostro paese, nella storia della nostra esperienza, a convivere e per convivere bisogna attivare il sistema delle convivenze, che è un sistema complesso. Il filosofo Montaigne diceva, io lo darei un'anima a diversi piani. Abbiamo un piano che è quello della convivenza interiore, la vita delle parti di noi che dialogano, e spesso sono in conflitto al nostro interno, sono i molti noi che stanno dentro di noi e in questo momento sono alla prese con lo spavento. Dal me stesso che minimizza al me stesso che si fa travolgere da pensieri catastrofici. Dobbiamo convivere con l'altro, questo è un altro sistema, non è il sistema dell'io, è il sistema del tu. C'è il bisogno di cura, c'è il bisogno di informazione, c'è il bisogno di ascolto. E poi dobbiamo convivere con la collettività, con gli altri. Questo è il sistema del noi, è il sistema della protezione, è il sistema della responsabilità. Il modo con cui affrontiamo questo isolamento in cui ci troviamo, il nostro modo di stare a casa, potremmo dirlo così, dice molto di noi nel presente e potrà dire qualcosa di noi nel futuro. Siamo tutti dietro un muro in questo momento, ma non è il muro per respingere chi ha bisogno, anzi è il muro per proteggere noi stessi, proteggendo anche gli altri. Paradossalmente potremmo parlare di un isolamento inclusivo, di un muro speculare e di un isolamento ribaltato. Non possiamo stringere, ma col pensiero abbracciamo. Non possiamo toccare, ma dai nostri schermi comunichiamo. Siamo dunque qui a casa, nei nostri piccoli ritiri monastici quotidiani, a volte nel silenzio della riflessione, a volte nella vitalità della conversazione, tutto il giorno raggiunti dal rintocco dei nostri WhatsApp che portano le voci e portano le notizie di casa in casa, di villaggio in villaggio. E sono sicuro che presto torneremo a comunicare anche abbracciandoci e anche parlandoci direttamente.